Ma è stata una partita difficile, io conosco anche bene gli avversari, la fermana, so come lavorano ed è una squadra che tende a farti giocare male, quindi ci sta la nostra partita. È stata una partita tosta, fisica, un duello continuo su tutto il campo e poi è successo quei quattro rigori sbagliati che penso di non aver mai visto. Però penso che la prestazione da parte nostra c'è stata, le partite d'ora in poi saranno sempre più difficili perché incontri squadre del genere dove anche loro devono centrare ancora l'obiettivo e questo è il risultato. Poi ripeto, la fermana è una squadra che sa quello che vuole, lavorano insieme da tanti anni e tende a farti giocare male, però secondo me la prestazione della squadra c'è stata. Sì, sono contento di come sono entrato, però a parte del gioco mi si è fatto altre scelte all'inizio, però ci sta, ecco. Per il resto sono contento della mia prestazione anche se quei due punticini in più non facevano male. Adesso abbiamo una settimana dove ci aspetta due partite, mercoledì a Legnago e domenica il derby col Modena. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, penso, starla con la testa, sappiamo quello che vogliamo e niente, andare là, battagliare su un campo dove Legnago anche là è una squadra che sta cercando di scatto perché viene da 5-6 risultati negativi, quindi dobbiamo essere attenti come oggi, forse un po' di più, però andiamo là con la testa e cerchiamo di fare punti.